... Mercoledì 16 settembre, buongiorno a tutti i cari telespettatori di FanoTV e benvenuti alla rassegna stampa del mattino. Sono le 7 per chi ci segue in diretta, buongiorno anche a coloro che ci seguono negli altri orari durante il corso della giornata, l'ultimo nel digitale terrestre alle 13.30 ma poi on demand sui nostri social e device in qualunque momento della giornata. Iniziamo a vedere subito il santo di oggi, oggi la chiesa ricorda i Santi Cornelio, Papa e Cipriano Vescovo. Il sole è sorto alle 6.51 e tramonterà questa sera alle 19.20. Uno sguardo al tempo, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con precipitazioni dalla tarda mattinata fino al pomeriggio rovescio temporali confinati però nei settori interni della regione. Per domani, giovedì 17, ancora cielo sereno sulla costa, soltanto un po' di pioggia sui Sibillini. Poi venerdì 18 settembre, ancora cielo sereno poco nuvoloso sulla costa mentre vedete l'alternanza di locali possibili rovesci, in particolare al mattino di venerdì sul Catria, Nerone e sul Carpegna e poi limitatamente sui monti del Meridione. Fine settimana che sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e soleggiato. Questa dunque è la situazione del tempo ma c'è la notizia della notte, la notizia dell'ultima ora, quella che non troverete sui giornali di questa mattina. Allora andiamo sul nostro sito internet, occhianonotizia.it, in apertura vedete il titolo, grande incendio di vampa nella notte al porto di Ancona. Tenete le finestre chiuse, entriamo subito nella pagina interna del nostro sito. Ecco l'immagine di questo rogo che ha devastato la zona portuale di Ancona. Le fiamme sono partite intorno a mezzanotte e 35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesero. Andiamo a vedere il filmato che ha pubblicato sul portale il Corriere Adriatico che si riferisce a questo incendio. Un incendio che abbiamo detto è divampato intorno a mezzanotte e 35 sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesero con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati, non ci sono però vittime e feriti. Dall'incendio che si è sviluppato nell'area ex Tubimar dove ci sono varie attività, si è elevata una densa colonna di fumo che è ancora nell'aria. Sul luogo sono intervenuti anche i mezzi delle forze dell'ordine che hanno cinturato la zona. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Nella zona ci sono una ditta che produce azoto liquido, una centrale elettrica e un impianto di metano. L'incendio è stato circoscritto ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul luogo anche i mezzi della protezione civile della Regione Marche e del Comune di Ancona. Comune che ha invitato pochi minuti fa a tenere i cittadini, i residenti di Ancona, a tenere le finestre chiuse in via precauzionale in attesa dei risultati delle analisi dell'ARPAM e dell'ASUR. È il consiglio che ha dato il Comune di Ancona dopo l'incendio divampato nel porto. Il centro città, il centro di Ancona è ancora invaso dal fumo. Queste dunque sono le immagini che il Corriere Adriatico ha trasmesso in diretta ieri sera appunto durante le prime ore di questo incendio. Adesso andiamo a vedere i giornali. Allora, l'arresto del Carlino, l'apertura è la cronaca con lupi in città capre sbranate. Il titolo, Balduini che è un allevatore per hobby, che si trova in via dei cacciatori, dice ne hanno uccise dieci. E queste sono le immagini che spiegano più di qualunque altra parola il disagio che ha avuto questa persona che per hobby appunto fa l'allevatore e questo è il risultato. Insomma, poi c'è lo smaltimento, tutto il resto. Insomma, non è una cosa semplice. Fermo restando che poi, insomma, va da sé che i lupi sono arrivati in città, visto che via dei cacciatori è vicino alla città di Pesero. Furti nei negozi, gli arrestati sono sette, altri due dopo i cinque di quest'estate per i colpi al Fano Center. Erano tre le bande in azione. Poi l'appello dei gestori delle discoteche, si balla in sicurezza, garantiamo noi, ma fateci riaprire. Questa è la richiesta. Poi pesta a sangue la compagna, l'ammazzo, donne nel mirino. A centro pagina ancora, scuola in ritardo, ma i carichi di mascherine stanno arrivando. L'Università Urbino riparte il 21 con le lezioni dal vivo e poi repege il basket, bravi a creare lo spirito giusto. Mentre oggi alle 17, atteso il calendario per la Serie C, dove militano Vis e Alma Juventus fanno girone di ferro, almeno questo lo sappiamo, nel girone dove c'è anche la Perugia e la squadra dell'Arezzo. Il Corriere Adriatico a centro pagina, in giunta due esterni su tre, farò il contrario. Invece sono le parole dei due candidati centrodestra e centrosinistra alle regionali che si sono incontrate, hanno fatto un faccia a faccia con i giornalisti del Corriere Adriatico. Affollamenti e ragazzi a piedi, invece, ancora la questione degli autobus, dei trasporti scolastici, che secondo il Corriere Adriatico sono andati in tilt, i mezzi sono insufficienti, il distanziamento è una chimera, ultimatum di Gambini ad Adriabus, collegamenti a rischio tra Pesaro e Fano, in direzione di Gradara e verso Vallefoglia, dirigenti scolastici che sono preoccupati. De Micheli, commissario anche la linea Orte-Falconara, ci sarà un commissario anche per la Orte-Falconara, non solo per la Fano Grosseto, la Ministra per le Infrastrutture De Micheli risponde al Corriere dopo le 47 puntate e quasi 100 pagine di inchiesta del dossier Infrastrutture del Corriere. Completeremo la terza corsia dell'A14, ha poi promesso la Ministra De Micheli. Poi, progetto Bike Hub, la stazione di Pesaro, ok all'acquisto dei terreni, sempre da Pesaro, voto in quarantena che Rebus, Comune e Asur sono ancora in alto mare, si parla delle persone che dovranno andare, vorrebbero votare il prossimo 2021, ma che non possono farlo andando ai seggi perché sono positive al Covid. Rai al centro commerciale, Rai dal centro commerciale, la polizia arresta una coppia, ma la convalida è solo per una delle quattro azioni, con l'accusa di ricettazione in manette anche un peruviano. Poi per la V, se il Fano il girone è quello previsto, cioè il girone B, oggi uscirà appunto, come abbiamo detto, il calendario. Partiamo da Fano, Fano Center, scacco alle bande, altri due arresti dopo i 5 di questa estate, finisce in manette anche una coppia di 19 e 25 anni, specializzate in furti di abbigliamento alla moda, in camerino, infilavano i capi costosi nello zainetto, poi uscivano pagando il minimo. Le mie figlie lasciate a piedi per due giorni di fila, avvio scolastico traumatico per due ragazzine che dovevano prendere la corriera per Pesaro. Adriabus parla di capienza limitata, aggiungeremo una corsa, lo sfogo del genitore per paura che non arrivassero in tempo, le ho accompagnate in auto, così ho fatto tardi, io al lavoro. Facciamo ballare tutti con la mascherina, i gestori delle discoteche dicono vogliamo riaprire, locali da ballo pronta l'autoregalomentazione pur di ripartire, danze di coppia solo tra congiunti. Qui ovviamente bisognerà capire come dichiarare, far vedere insomma che sono marito e moglie. Ecco comunque le proposte. Andiamo sulla pagina di Pesaro del Resto del Cadino. Bosco ripulito di sei quintali di rifiuti, ecco volontari di Mondavio al lavoro nelle ultime due domeniche, 19 sacchi di plastica e 10 di metallo raccolti. Il Ministro De Micheli alla Valmex di Lucrezia, insieme a Mangialardi. Paolo De Micheli sarà oggi a Lucrezia con il candidato Mangialardi. La conferenza inizialmente prevista a Fano per problemi organizzativi è stata spostata alla Valmex in via Fiume 6, che il Ministro visiterà alle 16.30, poi al termine intorno alle 17 si trarà l'incontro con la stampa nella sala conferenza della Valmex. I 95 anni di Merloni in isolamento, grazie a tutti, dice lui, per il tanto affetto. Dieci giorni fa è il periodo più difficile con la conferma della polmonite, l'inizio della terapia al plasma e la necessità di ricorrere, almeno in alcuni casi, all'utilizzo del casco per migliorare la respirazione. Ora va decisamente meglio e una luce in fondo al tunnel inizia a vedersi, ma i medici restano comprensibilmente cauti e non si sbilanciano in merito alle previsioni sul decorso Covid di Francesco Merloni, ricoverato dallo scorso 27 agosto nel reparto di malattie infettive all'ospedale di Torrette di Ancona. Da Fano dal Corriere, emergenza, docenti alle superiori, organici carenti, ne manca il 35%, la situazione più grave al Polo 3, liceo Torelli e alberghiero Santa Marta, frequentato da molti fanesi. L'ente carnevalesca invece in assemblea questa sera alle 20.30 è stata convocata in detta l'annuale assemblea dei soci in sessione ordinaria, la convocazione avviene alla cooperativa Tre Ponti e naturalmente ci sarà, dopo la nomina del Presidente e del Segretario, la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale settembre 2018-agosto 2019. Sul Corriere Adriatico si parla ancora di affollamenti sugli autobus, ragazzi a piedi, trasporto scolastico già in tilt, i mezzi sono insufficienti e il distanziamento è una chimera. Ultimatum del Sindaco Gambini, il Sindaco di Urbino, ad Adriabus, collegamenti a rischio tra Pesaro e Fano in direzione di Gredara e verso Vallefoglia, i dirigenti sono preoccupati. Stiamo reperendo risorse opportune per i prossimi giorni con l'aumento del parco macchine, tutti regolarmente a norma, ha detto Massimo Benedetti, direttore di Adriabus. Volevo solo ricordare che già dal prossimo giorno di scuola abbiamo messo a disposizione in tutta la provincia 15 autobus in più, quindi da oggi dovrebbero esserci 15 autobus in più sulla strada e che dovrebbero risolvere tutte quelle defezioni che inevitabilmente comunque ci sono state in questo avvio di anno scolastico. Ma sul fronte sanitario invece rischiamo di avere le scuole deserte senza chiarezza sulle certificazioni. I pediatri e i medici di medicina generale sono stati già inseriti nella task force creata da Asur per gestire i casi sospetti di Covid fra bambini e studenti perché in caso di febbre e altri sintomi che sono compatibili con il virus, i genitori non devono mandare i bambini e comunque i ragazzi a scuola. Questo ormai lo si sa chiaramente. Anche se ci sono appunto sintomi, sospetti, non avendo il tampone, non sapendo esattamente se è Covid oppure no, c'è comunque questa regola fondamentale, cioè di non mandare i bambini o i ragazzi a scuola. E per gestire invece i primi malesseri negli orari di scuola, cioè quando il ragazzino, il bambino è già dentro l'istituto, in concerto con il referente Covid, che ci deve essere in ogni scuola, come abbiamo visto, individuato e formato in ogni istituto, il Dipartimento di Genio e di Sanità Pubblica dell'ASUR di Pesaro sta ampliando il sistema di screening, riducendo le tempistiche per eseguire i tamponi, soprattutto per le nuove fasce a rischio di bambini e di giovani. Quindi sono un po', come dire, anche questi giorni su questo fronte piuttosto caldo. Da Urbino l'Università vi accoglierà in sicurezza, sono le rassicurazioni di Vilberto Stocchi, magnifico rettore dell'Università di Urbino. Dal 21 settembre dunque riprendono le lezioni dal vivo, ma con molti accorgimenti da seguire. Ma il magnifico rettore rassicura tutti, i dati delle iscrizioni sono davvero confortanti, aggiunge con un aumento percentuale a due cifre. Campo sportivo sulle pagine di Vallefoglia, campo sportivo in concessione dal Comune, siamo a Montellabate, la concessione è per cinque anni, le offerte sono attese entro il 24 settembre, è chiesto un affitto mesile di 800 euro. Mentre senza problemi, nelle scuole di Vallefoglia, l'avvio di questo nuovo anno scolastico, positiva anche la ricognizione da parte del sindaco Palmiro Cchielli e dei suoi assessori. Sulla pagina invece della Valle del Metauro, gli alunni più piccoli sulla scala antincendio, li vedete qui nella fotografia, i bambini di prima e seconda elementare mentre entrano a scuola e devono percorrere, insomma devono scendere questa scala antincendio, che chiaramente per un bambino non è che sia proprio il massimo della vita, ma comunque i genitori contestano la funzionalità del quarto ingresso alla primaria, qui siamo a Fossombrone e l'oggetto di questa protesta è appunto questa scala antincendio che è utilizzata come quarto ingresso di sicurezza nella scuola primaria di Fossombrone che è stata già contestata dai diversi genitori ieri mattina perché è ritenuta struttura poco sicura, priva di coperture e soprattutto non adatte ai bambini della prima e seconda classe. Di solito queste scale antincendio vengono utilizzate proprio in caso di incendio, in caso di evacuazione improvvisa, quindi non a livello ordinario ma straordinario, utilizzarla tutti i giorni in modo ordinario chiaramente già di per sé è una anomalia. Andiamo sulla pagina, vediamo se c'è qualche, ecco c'è un'altra notizia sotto, sempre in taglio basso sulla pagina della Val Metauro, Droga il questore sospende l'attività di un noto bar, secondo l'inchiesta Bunker lo frequentavano consumatori e spacciatori, la questura di Pesaro Urbino, informa una nota del capitano dei carabinieri di Fano, Maximiliano Papale, ha disposto il provvedimento di sospensione dell'attività economica di un noto bar del centro storico di Fossombrone a seguito di una lunga attività di indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Fano contro lo spaccio di droga nella città di Fossombrone. L'attività meglio nota con il nome di operazione Bunker il 4 giugno ha portato all'arresto di 7 individui e alla denuncia di altre 15 persone, dando di fatto un duro colpo allo spaccio di stupefacenti sull'intera vallata del Metauro. Da Senigallia, nuovo ponte, lavori dal 5 ottobre, summit in comune per la viabilità. L'intervento è stato finanziato e appaltato dalla Regione, sarà carrabile per motivi di sicurezza. Vi guardate questa fotografia invece, è uno scatto di questa ragazza, un fermo immagine del videoclip di Francesca Maria che a un certo punto si è messa lì per girare un video, un videoclip in strada, ma a un certo punto è stato interrotto dall'arrivo dei vigili. Francesca Maria a New York dice sì, invece a Cesano no. la ballerina e cantante è tornata nella sua città e stava girando appunto un video. Mentre buone notizie arrivano sul fronte del soccorso e quindi dell'eliambulanza, c'è l'ultimo timbro e quindi l'eliambulanza ora può volare anche di notte. L'ENA autorizza Icaro, da stasera potrà utilizzare sette piazzole in tutta la regione. Il direttore Rocchi dice garantiamo assistenza ai cittadini anche nei posti più impervi e davvero qui non c'è bisogno di aggiungere nulla perché lo abbiamo visto purtroppo in tutti questi mesi, in tutto questo tempo di giorno quante volte l'eliambulanza è stata impegnata e l'abbiamo visto anche con i nostri occhi, insomma un po' tutti. Ahimè abbiamo visto come entra in azione questo elicottero di colore giallo lo si identifica subito ma anche in condizioni davvero impervie in situazioni particolarmente anche difficili quindi davvero bravi tutti e adesso la notizia è che potrà volare questo elicottero anche di notte. Non solo Fano Grosseto, anche la Orte Falconara avrà il suo commissario lo dice il Ministro De Micheli che risponde al Corriere dopo il dossier Infrastrutture e l'allungamento della terza corsia dell'A14 si farà, stiamo rivedendo la convenzione con il concessionario ma ora le risorse saranno inserite. Dunque speriamo che ci sia non solo la Fano Grosseto ma anche la Orte Falconara perché comunque sulla tratta ferroviaria per chi deve andare a Roma nella capitale e sa che deve partire da Ancona è un dramma. Allora votare dalla quarantena che Rebus ci sono le persone che non possono andare a votare, vorrebbero andare a votare ma che sono in quarantena e di conseguenza non potranno muoversi il 20 e il 21 e andare nel seggio fisicamente. Però possono votare. Ma ancora ci sono delle regole è un po' tutto in alto mare. È stato chiesto anche l'aiuto della protezione civile ma buio sui quali dispositivi di sicurezza i volontari dovranno dotarsi perché chiaramente chi vorrà votare da casa essendo in quarantena dovrà attendere l'arrivo di una squadra di volontari di una squadra speciale che con tutta la mimetica la tute e quant'altro dovrà andare lì con la scheda elettorale e far votare le persone che sono in quarantena. Ma ancora non si sa bene come fare questa cosa. Mancano pochi giorni ma ancora ci arriveremo. Bersani possiamo vincere dice il leader di articolo 1 ironizza sui sondaggi e invita i candidati a parlare a tutto l'elettorato. ammette che sarà dura ma si può fare per Luigi Bersani il lunedì pomeriggio in piazzale Collenuccio ha incontrato i cittadini e i candidati della lista Marche Coraggiose di cui è parte anche articolo 1 che ha in Bersani il suo leader. Pede Montana la Morani incontra i cinque sindaci siamo a frontone alla sottosegretaria allo sviluppo economico illustrate le potenzialità della strada sotto fibra ottica a Mondolfo un muretto abbattuto e sfondato l'acquedotto incidenti nella gestione dei lavori e di notte buche non segnalate con le luci. Andiamo sulla pagina dello sport siamo in chiusura girone B ecco qua tutte le avversarie oggi il calendario stabilite le compagne di viaggio della Vis e delle altre marchigiane sabato alle 17.30 Empoli amichevole di lusso per i biancorossi non c'è più il Piacenza scalato nel girone A ci sono invece l'Arezzo e il blasonato Perugia Fano il lieto fine ora è vicino Bernardini e Traini riescono a sbloccare la trattativa con Lascoli per ridefinire la collaborazione Tofanari e Tassi adesso possono tornare in Granata insieme a loro ci sarà anche D'Agostino mentre Parlati prende la mira sul Cesena abbiamo cominciato la grande l'amichevole di sabato sarà un'altra verifica importante per noi e sul resto del Calino invece è ancora girone infernale ci sono Perugia e Arezzo partoriti gli schieramenti in cui giocheranno Vispesero e Alma Fano e intanto per i biancorossi altre amichevole di russo con l'Empoli mentre a Fano da Fano il direttore generale Granata Bernardini dice piazze importanti a proposito del campionato che ormai è dietro l'angolo la 17 di oggi intanto saranno resi noti i calendari trasferte di primo piano e un torneo complicato per quanto riguarda la VL invece Pesero è tornata e non ci fermeremo qui la VL è tornata all'altezza delle big delle grandi il presidente Costa dice sappiamo dove intervenire per completare la rosa manca un lungo l'esperienza in più fa tutta la differenza per me è un piacere vedere giocare un pivò come Cain Massa è nata il collante mentre bravi dice l'allenatore Repegia bravi a creare lo spirito giusto il nostro marchio sarà la difesa Repegia si gode un inizio ideale complimenti allo staff e alla società ora lavoriamo sui rimbalzi e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa tornerei soltanto un attimo per farvi vedere andando e scorrendo un attimo le immagini anche con l'audio con le immagini con cui abbiamo aperto la nostra rassegna stampa immagini girate dal Corriere Adriatico durante la notte al porto di Ancona sono immagini che ha trasmesso in diretta sulla sua pagina Facebook lo ricordo intorno a mezzanotte e 35 si è sviluppato un grosso incendio nell'area del porto Anconetano nell'area ex Tubimar dove ci sono varie attività si è levata una densa colonna di fumo che è stata vista filmata e quant'altro per lungo tempo sul luogo sono intervenuti anche i mezzi delle forze dell'ordine che hanno cinturato tutta la zona le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture di alcuni capannoni dove si potrebbero trovarsi solventi vernici altri materiali potenzialmente tossici nella zona ci sono una dita che produce azoto liquido una centrale elettrica e un impianto di metano l'incendio è stato circoscritto intorno alle 5 di questa mattina ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e sul luogo ci sono anche mezzi della protezione civile ma poco fa il comune di Ancona ha chiesto e ha chiesto a tutti i cittadini che si trovano nelle vicinanze di tenere le finestre di casa chiuse ovviamente questo in via precauzionale in attesa dei risultati e delle analisi che saranno svolte da ARPAM e dall'ASUR questo è il consiglio che appunto ha dato il comune di Ancona dopo l'incendio divampato nel porto nell'area ex tubi ma il centro città è ancora invaso dal fumo queste sono le immagini con le quali chiudiamo la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito l'informazione su Fano TV torna questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia e il telegiornale arrivederci a presto